Bella raga, un saluto dal vostro capitale Napoli, un saluto a Nemesi, glielo avevo promesso, tanti mi chiedete di salutarvi, vi saluterò man mano, siete in tantissimi che me lo chiedete, vi ringrazio infinitamente. Iscriviti, iscrivete al mio canale, ho appena fatto la nuova pagina nuovissima su Twitter, seguitemi su Twitter, capitale Napoli, esperto di calcio, dopo il video vedrete delle immagini che io sono iscritto su Twitter, così mi potrete seguire. Ho tituato a Cavani, poi vedrete immagini, dicendogli se gli era piaciuto il mio video dedica che io ho fatto su YouTube, speriamo mi rispondi. Sto facendo di tutto nel mio piccolo per portare Cavani a Napoli. Ci sono aggiornamenti, da calcio Napoli 24, ha dichiarato l'attore di Vaio, ho parlato con Luigi De Laurentiis, figlio del presidente De Laurentiis, vogliono prenderlo Cavani, sanno che è alla loro portata. Ha parlato con Luigi De Laurentiis, il figlio, e posso dire che loro vorrebbero prendere Cavani. Mi sbilancia a tal punto perché vorrebbero davvero prenderlo, ma si muovono con intelligenza e accuratezza. Queste trattative si fanno con segretezza, sanno che è alla loro portata. Dopo ha dichiarato anche Enrico Fedele a Otto Football su Canale Otto, Cavani, Enrico Fedele procuratore. Cavani non è un sogno, mi risulta davvero possa venire a Napoli. Poi il grande procuratore Oscar Damiani, ex giocatore del Napoli, è sicuro che Napoli farà un grande colpo, però non ha fatto il nome. Secondo me, quello detto da Sky su Murata è solo un'azione di depistaggio. Dopo altre dichiarazioni su Aria Napoli, freschissima di stamattina alle 11.05. Cavani oggi a Willa Stewart, Aria Napoli, non fronte mia, Tantana di Maro. Bole qualcosa in pentola e la solita fake news. I tifosi del Napoli vedono l'ombra del fuoriclassio luogo ovunque. La notizia di giornata parla di una visita specialistica in quel di Roma. La nostra inviata di Maro Folgarita, un'altra voce accompagna la mattinata di Marese dei tifosi del Napoli. Tantana gira non solo in rete. Cavani oggi sarà a Willa Stewart per un controllo dopo l'infortunio del mondiale. La notizia non è stata ancora confermata, ma in tanti sogno che questo rumor spopolare si trasformi presso in una dolce realtà. E' questo l'ordine del giorno tra le varie trentine. Cavani ormai è diventata una vera ossessione. La torcida partenopea sogna il ritorno del figlio del Paolo Prodigo. C'è un solo nome che unisce il tifosi e corrisponde al nome di Edison Cavani. Attualmente è Paris Saint Germain. Ti dice che nei prossimi giorni sarai in vacanza ad Agropoli, una delle perdite del silenzio. Certi dicono che sia Carivi proprio oggi. Camaglia da sempre fuoricassi e rugato. La località dista pochi chilometri da Napoli. Chissà se qualcosa bollì in pentola. Queste sono tutte le news aggiornamenti. Sarebbe bellissimo se tornasse Cavani perché tutta la città di Napoli esploderebbe di gioia, compreso me. Sarebbe troppo come un rinterbello se domani, se domani alla presentazione delle maglie presentassero clamorosamente se Cavani e Di Maria domani anche il mio compleanno e compio quarant'anni sarebbe, mi farebbero non solo a me, un regalo di compleanno mi farebbe dell'origine e a tutti i tifosi del Napoli indimenticabili. Vi auguro un buon proseguimento di giornata, un saluto di nuovo dal vostro Capitano Napoli. Iscrivetevi, iscrivetevi al mio canale, seguitemi, vedete dopo il video collegato, subito dopo appena finisce questo. Mi sono appena iscritto a Twitter Capitano Napoli, esperto di calcio. Seguitemi, seguitemi anche su Twitter, spergete la voce. Iscrivetevi sempre di più dal vostro grande Capitano Napoli, sempre e comunque. Forza Napoli, una buona giornata a tutti e ci voglio. Grazie a tutti.